assistere a questo spettacolo veramente molto bello, tra l'altro il tema è un tema interessante, uomo e libertà. Infatti era un po' di anni che volevo creare per la compagnia Astraloma Ballet che dirigo appunto da 32 anni questo argomento perché ha poi lo sfondo in pratica dei giorni d'oggi, ossia alla fine anche nell'Ottocento, anzi maggiormente nell'Ottocento la donna era sempre sottomessa e infatti nel finale poi si arriva ai giorni d'oggi. Però è interessante lei, questa grandissima scrittrice che è riuscita con la sua determinazione appunto ad ottenere questa libertà dello spirito e questa considerazione nella società. Bravi ballerini perché devo dire è stato uno spettacolo creato veramente ad arte, lei si può sentire soddisfatta di tutto questo? Moltissimo, poi sono molto affezionata a Crotone, io sono venuta qui tante volte su questo volcoscenico a ballare e ora invece sono dal lato appunto della direzione artistica della compagnia e quindi mi emoziona abbastanza tutto questo.